Novità in consiglio comunale a Chieti dove si è formato un nuovo intergruppo, una forza di minoranza costituita da liste civiche e partiti che in questi due anni hanno avuto modo di convergere sul merito delle linee politiche e sul metodo della loro elaborazione. Lo hanno precisato Azione Politica con Serena Pompiglio, Chieti Viva con Giampiero Riccardo, Diorio Sindaco con Bruno Di Giorio, Forza Chieti con Stefano Costa e Udc con Mario Delio. Si costituisce, dicono, un intergruppo a 5 che a oggi è il più numeroso fra i gruppi politici attualmente presenti in consiglio comunale. Ma come nasce questa realtà? Oggi formalizziamo quello che avevamo un pensiero in atto di voler fare perché c'è da dire che geneticamente noi siamo nati come lista civica, io, i consiglieri, Giampiero Riccardo e Maurizio Costa con un'idea di civismo puro per il bene della nostra città. Durante questi due o tre anni ci siamo accorti che i personalismi e i motivi partitici sono prevalenti in questa amministrazione. Non siamo quelli del no a priori, prosegue Diorio, ma il nostro obiettivo comune è il bene della città e non si risparmiano critiche all'attuale amministrazione. Sotto gli occhi di tutti, il terminal bus, l'ascensore, proclami di apertura e non apertura, la piazza San Giustino, proclami del nostro sindaco, li apriamo domani, dopodomani, senza parlare di problemi di bilancio, delibere all'ultimo momento e invece in altri aspetti delibere fatte in 48 ore per gli amici degli amici e degli amici. Quindi al di là delle polemiche oggi noi formalizziamo un'aggregazione che sarà quella maggiore, prevalente nel nostro consiglio. La presentazione dell'intergruppo in piazza Vico. Comunque sono attività, ripeto, proposte per il bene della città di fronte ad un'amministrazione attualmente inadeguata a risolvere le problematiche sia ordinarie che straordinarie di Chieti.